un saluto a tutti e benvenuti benvenuti a l'italiano in podcast io sono paolo il creatore di questo podcast il creatore di ispeakitaliano.it e sono anche l'unica persona che parla in questo podcast e quindi io vi do il benvenuti a questo nuovo episodio siamo alla puntata 349 di martedì 2 novembre 2021 tra poco arriviamo alla puntata 360 sarà un anno esatto di puntate anche se il podcast ha già compiuto un anno il primo settembre di quest'anno è diventato un podcast più anziano di un anno ha compiuto un anno quindi tra pochi giorni però ci saranno 365 puntate esattamente come una ogni giorno dell'anno un traguardo importante e sicuramente un traguardo che mi fa piacere insomma io non non ho mai creduto di continuare così a lungo con questo podcast ma siamo qui ancora oggi dopo tutti questi episodi sono qui perché sono solo anche se qualche volta qualcuno mi dà una mano mi aiuta a cercare delle curiosità ma parlo solo io qualche volta forse posso sembrare anche un po pazzo ma scherzo no però sì sono l'unico per il momento a far parte di questo podcast e quindi se ho registrato tante puntate è un po un motivo per essere un po orgoglioso anche del lavoro fatto che non è non è mai semplice comunque anche oggi voglio fare il mio lavoro quindi anche oggi sono qui sono pronto per aiutare tutti voi che studiate la lingua italiana a proporre questo contenuto insomma a proporre a voi questo contenuto per fare esercizio con con la lingua e con quello che avete imparato quindi anche oggi vi faccio compagnia anche oggi vi racconto qualcosa della mia giornata non tutto ma quasi anche oggi vi darò qualche notizia molte poche a dire la verità oggi non è stata una giornata troppo interessante tutto questo sempre come ho detto prima con questa idea di aiutare le persone che hanno voglia di provare a mettere in pratica insomma quello che hanno studiato in teoria quindi come sempre come dico sempre in queste ultime settimane mettetevi comodi e trovate un posto adatto per rilassarvi per concentrarvi solo sulla mia voce e sul podcast che ascoltate e quindi provate a starmi dietro provate ad ascoltare tutto a capire il più possibile e soprattutto a cercare di trovare qualche nuova parola di vocabolario e soprattutto espressioni idiomatiche che fanno parte della nostra vita quotidiana insomma qui in italia ce ne sono molte e per tutte le persone che viaggiano qui credo sia importante far conoscere più espressioni possibili proprio per capire un po' quello che vi dicono intorno ma più in generale è utile perché queste espressioni aiutano a suonare suonare cioè a sembrare più italiani anche se ovviamente non intendo per l'accento ma intendo nel modo di parlare nelle frasi che usate nel vocabolario che usate questo aiuta insomma a far sembrare le frasi più italiane più vicine al nostro modo di parlare iniziamo quindi l'esercizio con il racconto breve della giornata di oggi non molto interessante in realtà una giornata abbastanza normale abbastanza tranquilla oggi in italia è il giorno dei morti nel giorno in cui celebriamo le persone care che non ci sono più ma di solito i giorni in cui si fa visita alla tomba dei nostri cari è più giorno prima il primo novembre perché è festa e si può andare ovviamente il due oggi è un giorno di lavoro in realtà quindi non tutti vanno oggi in molti vanno il primo novembre a fare questa visita diciamo io purtroppo ieri bruttissimo tempo e credo che in molti non sono andati anche quindi non sono andato e oggi neanche perché ho avuto qualche impegno ma in realtà io faccio questa cosa in altri momenti insomma lo faccio più spesso prima di tutto perché molti italiani non vanno spesso a trovare o a sistemare un po la tomba dei cari ma io vado regolarmente quindi quando sento di andare quindi non mi sento in obbligo di rispettare questa data particolare l'importante è trovare un modo personale per questo e io ho il mio modo personale quindi non sono andato a fare questa visita ma volevo farlo nei giorni scorsi purtroppo però non è stato possibile probabilmente nelle prossime settimane lo farò sicuramente bella giornata oggi quando mi sono svegliato c'era il sole anche se molto vento per fortuna però le nuvole nere sono andate via almeno per un po quindi la giornata è stata quasi sempre bella solo con un con un vento abbastanza fastidioso per tutta la giornata sveglia presto come sempre non ho dormito molto ma ero riposato sono riposato anche adesso e dopo la mia solita colazione questa mattina è stato molto divertente perché mentre entravo nel bar c'erano alcune persone davanti al bancone ma quando sono entrato la barista ha preso il mio cornetto come sempre e senza che io dicessi nulla lo ha preparato e me lo ha dato appena arrivato davanti al banco qualche altro cliente insomma è rimasto un po sorpreso da questo gesto perché ovviamente non ho detto nessuna parola ma tutto è avvenuto automaticamente perché ovviamente conoscono le mie abitudini perfettamente e sanno in quali giorni cambio le mie abitudini comunque colazione veloce nessuna passeggiata questa mattina perché durante la mattina avevo una lezione ma avevo anche alcuni impegni quindi dovevo essere più veloce a fare alcune cose prima della lezione perché dopo la lezione avevo altri impegni ancora quindi commissioni prima di questa lezione spesa la spesa settimanale più importante e poi la lezione e l'appuntamento con l'idraulico che è anche un mio carissimo amico da moltissimi anni e lui è venuto con poco preavviso quindi mi ha chiamato la mattina io odio questo non so voi ma io odio sapere le cose poco tempo prima non so un'ora prima mezz'ora prima di una scadenza nel senso che questo mio amico mi ha chiamato e mi ha detto tra un'ora e mezza sono a casa tua per fare un piccolo lavoro che dovevamo fare da un po' e non mi ha avvisato ieri non mi ha avvisato due giorni fa mi ha avvisato questa mattina e in qualche modo ho riorganizzato la mia mattina in realtà non è stato troppo difficile ma non ditelo a lui però non mi piace questa idea di essere avvisato all'ultimo momento si dice per fare qualcosa perché in qualche modo questo crea stress e qualche volta non è facile e non è possibile essere flessibili per fortuna oggi è stato così quindi dopo la lezione è arrivato questo mio amico idraulico che lavora insieme a un altro amico e ha sistemato tutto in forse meno di mezz'ora quindi un'operazione veloce ma lo stesso non amo sapere le cose pochi minuti prima di dover fare le cose però ovviamente possono succedere queste cose ma alla fine nessun dramma tutto è andato bene abbiamo fatto anche una bella chiacchierata era da molto che non ci vedevamo quindi va bene così dopo questo una lezione prima del pranzo poi finalmente il pranzo anche se non troppo lento, non troppo rilassato perché anche io avevo impegni nel pomeriggio quindi un pasto abbastanza tranquillo e veloce e nel pomeriggio altre due lezioni l'ultima lezione c'è stata questa sera tra le 9 e le 10 quindi molto tempo a disposizione praticamente non ho fatto niente oggi avevo il mio livello di produttività a metà strada tra quello di un koala e quello di un bradipo quindi in poche parole non ho fatto niente sono stato pigro anche perché ci sono stati questi impegni un po' sparsi durante la giornata il periodo più lungo di tempo libero era dopo le 4 in realtà dopo le 5 perché per vari motivi l'ultimo incontro è durato un po' più a lungo poi ho fatto delle altre cose quindi mi sono liberato intorno alle 5 ma non ci sono scuse sono stato pigro e sono stato anche lento spero davvero che domani sia un giorno più produttivo ma oggi ho fatto solo lezioni poche lezioni tre lezioni e ho seguito alcune questioni come ho detto l'idraulico un po' di spesa ma niente di più quindi oggi mi merito un brutto voto per la mia produttività ma spero di recuperare nei prossimi giorni nient'altro nella mia giornata quindi non c'è molto altro da dire perché dopo l'ultima lezione anche mi sono riposato un po' e poi è arrivata l'ora del podcast mi sento un po' in colpa perché era una buona giornata per fare qualcosa ma devo dire che non tutto è andato come volevo e c'è stato qualche motivo per non essere produttivo insomma diciamo che per qualche ragione oggi mi sentivo un po' scarico e anche un po' nervoso ma può succedere speriamo che presto torni lo stesso livello di produttività dei giorni scorsi questo è tutto per quanto riguarda me vediamo cosa è successo in Italia molto molto velocemente perché le notizie sono davvero davvero molto poche se escludiamo ovviamente quelle che riguardano il bollettino del covid beh si è concluso a Glasgow l'incontro tra i capi di stato più importanti al mondo questo è un fatto che riguarda anche l'Italia per questo ne parlo c'era anche Mario Draghi ovviamente il nostro presidente del consiglio altre notizie come dicevo beh un po' di sport e un po' di sport oggi hanno giocato due squadre italiane per la Champions League l'Atalanta e la Juventus l'Atalanta ha pareggiato con il Manchester la Juventus ha vinto 4 a 2 contro lo Zenit di San Pietrobulgo e questo ha permesso alla Juventus di qualificarsi per il turno successivo del torneo di questo campionato europeo e tutto questo con un giorno di anticipo cioè una giornata di anticipo una giornata nel calcio è un turno un turno di partite quando c'è un campionato un torneo la giornata di campionato è quella giornata in cui le squadre giocano fra di loro e quindi diciamo completano un nuovo un nuovo turno di gioco no? perché di solito un torneo è diviso in più fasi e ogni fase può essere vista come una giornata di campionato niente altro da aggiungere per le notizie c'è solo il bollettino del covid poi le nostre rubriche di curiosità la forisma e poi i saluti finali per quanto riguarda il bollettino abbiamo 2800 nuovi positivi 41 purtroppo i morti il tasso di positività è dell'1,2% ieri era un 1,9 e sempre ieri i morti erano solo beh solo questa parola non mi piace ve l'ho già detto altre volte e non voglio usarla in questa situazione quindi ieri c'erano 20 20 20 vittime in più ma ovviamente questa situazione è un po' ancora di alti e bassi un giorno va molto meglio un giorno invece ci sono problemi per fortuna il vaccino ha raggiunto l'83% completo questa volta 44.851.000 italiani si sono vaccinati e 90 milioni di dosi sono state somministrate le persone che hanno almeno una dose di vaccino sono l'83,68% della popolazione quindi tutti i numeri buoni che speriamo siano utili a tenere sotto controllo la situazione nei prossimi mesi passiamo a anniversari e compleanni di personaggi importanti oggi non vi parlo di avvenimenti storici ma solamente di persone ci sono due anniversari della scomparsa di due importanti personaggi della cultura italiana il primo è Pierpaolo Pasolini il 2 novembre del 1975 è stato ritrovato il suo corpo senza vita all'idroscalo di Ostia poco distante da Roma Pierpaolo Pasolini è stato uno degli intellettuali più importanti del dopoguerra italiano è stato anche un grande regista un grande scrittore insomma è stato tante cose quindi mi sembra giusto ricordarlo in questo spazio l'altro uomo molto amato e importante per la cultura italiana è un attore famosissimo sto parlando di Gigi Proietti che il giorno del 2 novembre del 2020 è morto in ospedale dopo qualche giorno di ricovero per problemi cardiaci e con Gigi Proietti cominciamo anche l'elenco delle persone che oggi celebrano il compleanno ovviamente nel caso di Gigi Proietti si tratta di un anniversario ed è l'anniversario della sua nascita in pratica Gigi Proietti è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre è nato il 2 novembre del 1940 ed è morto il 2 novembre del 1920 80 anni esatti dalla sua nascita alla sua morte un altro personaggio importante un anniversario di compleanno importante è quello della nascita di Lucchino Visconti un grande regista italiano uno dei più famosi nel mondo il film più importante forse quello più ricordato è Il Gatto Pardo un film tratto da un libro molto famoso che è sicuramente molto importante nella cultura italiana vi invito a leggere qualcosa su questo libro che si intitola Il Gatto Pardo bene non ci sono altri nomi da aggiungere a questo elenco ah no scusate si ho dimenticato un nome di un personaggio molto importante per il cinema italiano si tratta di Vincenzo Cerami uno scrittore ma anche uno sceneggiatore e un autore cinematografico la sceneggiatura della vita bella è sua ed è stata candidata all'Oscar quindi sicuramente Vincenzo Cerami è un personaggio da ricordare nella storia del cinema italiano ed è l'ultimo personaggio di cui vi parlo oggi passiamo invece all'aforisma alla frase celebre di oggi ne ho scelto uno un po' diverso dal solito ovviamente vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questa frase e l'aforisma che ho scelto per voi oggi è questo il sex appeal è composto per il 50% da ciò che uno ha per l'altro 50% da ciò che gli altri pensano uno abbia forse è un po' difficile non lo so ma sono sicuro che capirete bene alla fine e sono sicuro che troverete il personaggio che ha inventato questo aforisma e con questo aforisma è tutto non c'è altro da aggiungere o almeno io non ho trovato altro ma vi ho già detto che oggi ho la produttività di un coala o di un bradipo quindi non so se ho cercato bene tutte le notizie da darvi ma credo che ormai ho una certa abitudine a fare il podcast e quindi credo di aver detto tutto quello che era importante dire vi do l'appuntamento a domani spero che questo episodio non sia stato troppo veloce spero di non aver parlato troppo veloce sono sicuro che siete bravissimi e avete fatto un buon esercizio quindi tornate anche domani ad ascoltare quello che ho da dire ma per oggi dovete andare via perché è tutto qui e fra poco vado a letto quindi vi saluto e ciao a tutti